I fulgidissimi azzurri delle praterie paradisiache Dalle rivelazioni di nostro Signore Gesù Cristo tramite la mistica Maria Valtorta Ho visto i fulgidissimi azzurri delle praterie paradisiache È già cosa che porta alla beatitudine Anche rimanesse da sola questa vista delle plaghe celesti Inondate dalla luce che nessun paragone spiega Dalla luce del paradiso Noti padre che le distese del celeste regno Mi apparivano molto più in alto del comune cielo etereo Eppure mi erano distintissime Come fossero non più oltre dei tetti E sempre quando contemplo il paradiso Ho questa sensazione di infinita lontananza dalla Terra E quella di essere io che sono trasportata oltre l'atmosfera terrestre Per essere avvicinata al cielo paradisiaco Perché io possa vedere bene Mi sento insomma strappata alla Terra E portata lassù Lontano Non nel paradiso Che è ancora più in alto Ma dove già il creato È lontano È lontano Anche con le stelle I pianeti Ho la sensazione Di essere inginocchiata con l'anima mia E lo farei anche materialmente Se un resto di vigilante ragione Non mi trattenesse dal dare manifestazioni Di quanto avviene in me Ma con l'anima mi prostro Perché sento d'essere al cospetto Di ciò che è tanto superiore all'uomo Che va venerato Anche se è semplicemente luce E azzurro Senza limiti E azzurro Anche se è semplicemente luce Anche se sono Anche se è semplicemente luce Anche se è semplicemente luce E azzurro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.